Ciao, forse mi conosci perché mi segui. Io sono Riccardo e sono il creatore di Fisiocon. Magari hai visto la mia brutta faccia su YouTube, su Facebook, dove noi ci occupiamo di recensioni di apparecchiature elettromedicali, di articoli di fisioterapia e riabilitazione e ci occupiamo anche di farvi conoscere le aziende e diversi eventi che vengono creati in Italia. Se non sai cos'è Fisioco e pensi che potrebbe essere utile la tua attività, basta che vai su www.fisiocoitalia.com e da lì puoi decidere se iniziare a seguirci o meno. Ma oggi voglio parlarti di un'altra cosa, un'altra idea che ho deciso di creare. Oggi voglio parlarti di questa nuova rubrica che ho deciso di creare che si chiama CONFRONTO, la mia e la tua opinione. Questa rubrica ovviamente è sempre inerente alla fisioterapia e riabilitazione, ma con un punto di vista mio totalmente personale a 360 gradi. Perché ho pensato di creare questo tipo di nuova rubrica? Punto interrogativo. perché voglio conoscervi, voglio farmi conoscere e quindi esporre la mia opinione liberamente, dire tutto quello che penso effettivamente su quello che accade in questo fantastico settore come la fisioterapia e riabilitazione. Voglio condividerlo con voi, ma soprattutto voglio sapere le vostre opinioni, i vostri commenti, i vostri giudizi, i vostri pensieri su quello che effettivamente ogni giorno accade nel mondo della fisioterapia e riabilitazione. Cercherò di pubblicare un video a settimana, più o meno, dove prenderò in analisi video che trovo nel web, articoli che trovo nel web, cose scandalose che si possono sempre trovare nel web che riguardano la fisioterapia e riabilitazione. E liberamente dirò la mia opinione. E spero che voi diciate la vostra. Iniziamo subito con questo video. E ditemi cosa ne pensate di questa iniziativa commentando qui sotto liberamente. Non vedo l'ora di conoscervi, di comunicare con voi e soprattutto di farvi conoscere e conoscere comunque liberamente senza mezzi fronzoli, mezze parole, tutte cose ultra mega professionali, ma completamente liberamente la vostra opinione sui riscorsi che andremo affrontare insieme. Quindi mi raccomando cominciate a commentare qui sotto questo primo video. Già vi dirò che il prossimo video lo faremo la settimana prossima e riguarderà un argomento piuttosto scottante. Se questa iniziativa ti piace condividi questo video. Se non ti piace non condividerlo, anzi mandaci liberamente a fanculo, sempre scrivendo sotto. Iniziamo questo nuovo viaggio insieme e speriamo di creare un po' di caos, tra virgolette, per far vedere che comunque il mondo della fisioterapia e della riabilitazione con l'avanzare del tempo utilizza sempre di più i sistemi social per comunicare, ma soprattutto per informarsi e per crescere. Ci vediamo con i prossimi video e alla prossima. Ciao!